La situazione meteorologica sulla regione è governata dal flusso di correnti sud-occidentali a tratti umide in conseguenza del passaggio di diversi fronti. Uno di essi ci interesserà nella serata di sabato, un altro nella notte tra domenica e lunedì. Sabato prevediamo quindi cielo in genere coperto su tutta la regione, qualche residuo pioggia di primo mattino o neve deboli nevicato oltre gli 800 millimetri, poi variabilità anche se dovrebbe prevalere in giornata, cielo nuvoloso coperto dal pomeriggio sera, nuovo peggioramento, piogge diffuse anche abbondanti su pianura e costa, nevicate in montagna con quota neve in calo in serata fino a 700 metri circa. Sulla costa soffierà scirocco moderato, poi in serata al passaggio del fronte avremo raffiche di vento a nord o a ovest specialmente sulla costa e sul mare. Temperature minime intorno ai 6-8 gradi sulla pianura, intorno agli 8-10 sulla costa massime appena superiori ai 10 gradi sia in pianura che sulla costa. La giornata di domenica si aprirà di primo mattino ancora con nuvolosità residua e qualche residuo precipitazione, poi variabilità per buona parte della giornata e associata a venti in genere deboli. Dalla sera nuovo peggioramento con altre piogge in genere moderate su pianura e costa e delle nevicate deboli e moderate in montagna, 700-800 metri circa la quota. Le precipitazioni poi si porteranno nella giornata di lunedì. Nella notte tra domenica e lunedì entrerà bora sostenuta sulla costa moderata in pianura. Temperature in lieve calo con minima intorno ai 4-5 gradi sulla pianura e nel primo mattino di domenica avremo anche qualche nebbia e minima invece intorno ai 6-8 gradi sulla costa. Le massime dovrebbero attestarsi intorno ai 10 gradi sia in pianura che lungo la costa. È tutto dall'Osmer, Arturo Pucillo vi saluta. Grazie.